...del primo tempo da Serena, con un preciso colpo di testa che elude anche l'uscita di Mannini, peraltro molto bravo in altre circostanze, 1-0. Si va dal secondo tempo al ventiduesimo il raddoppio, Platini sulla destra, un tocco indietro per Lautrup che si accentra, poi di sinistro trova l'angolo della porta Pisana, 2-0. Il 2-1 temporaneo, un errore di quelli che Scirea avrà commesso forse due sole volte nella carriera, questa volta viene il gol di Kifti, 2-1. 3-1 con un gol di Serena, molto bello, ecco l'azione, Bonini dopo aver ricevuto il passaggio di Favero lancia Lautrup che apre sul limite dell'area per Serena che prende letteralmente la mira e col sinistro di prima intenzione trova l'angolo della porta del Pisa.